Nella nostra grande e bella chiesa di Nostra Signora della Salute abbiamo l'onore di conservare le spoglie mortali di San Leonardo Murialdo. San Leonardo Murialdo è un santo che tutti noi conosciamo, grande apostolo dei giovani, nato nel 1828 e morto nel 1900. L'urna contenente San Leonardo Murialdo è presente nella nostra chiesa dal 1971. Negli anni 1990 ha trovato la collocazione che stiamo vedendo, con la grande vetrata che lo sormonta, con i pannelli che ne descrivono la sua attività durante la sua vita. Dalla congregazione che San Leonardo Murialdo ha fondato, i Giuseppini del Murialdo, era stato indetto un anno murialdino, iniziato nel 30 marzo 2019 e che si conclude il 3 maggio 2020. Quest'anno Murialdino è legato a due date significative di San Leonardo Murialdo, 120 anni dalla sua morte, avvenuta il 30 marzo 1900, e 50 anni dalla sua canonizzazione, avvenuta il 3 maggio 1970. Durante questo anno murialdino abbiamo avuto l'occasione di approfondire la figura e la santità di San Leonardo Murialdo. La conclusione doveva avvenire proprio qui, nella chiesa di Nostra Signora della Salute, il 3 maggio 2020. Per l'emergenza coronavirus non possiamo fare questa celebrazione, però credo che sia bello e importante ricordare e pregare San Leonardo Murialdo. Ci assista lui, ci assista lui dal cielo. Grazie a tutti voi per questo breve video che illustra la nostra Signora della Salute. Ne seguiranno degli altri se avrete voglia di vederli. Buona giornata a tutti!